Per tutto il progetto Wurridge effettivamente non abbiamo mai lavorato con fotografi della moda, da qui una scelta anche di continuità, anche progressuale con autori della fotografia. L'idea del teatro della vita, del teatro delle cose e soprattutto anche l'idea di una memoria, che secondo me è interessante citare, che è una memoria che Paolo probabilmente condivide come artista con noi, che è quella di un prodotto Wurridge che comunque ha una lunghissima storia. Tutto il nostro percorso di Wurridge rappresenta un'azienda che è un pezzo di storia americana. Non è solo un fatto di capi, è un fatto proprio di rappresentare una storia ed è una storia che è veramente unica. Noi abbiamo sempre fatto abbigliamento fin dal 1830 per chi vive all'aria aperta, poi oggi vive all'aria aperta in una situazione urbana, ieri vivevi in una situazione molto più legata alla natura, al mondo dell'interperio. E' stato poi molto interessante anche il fatto di trovare in Paolo un appassionato dell'abbigliamento, che ha comunque un archivio tessile e di capi molto interessante, che secondo noi si fondeva molto bene con l'immagine della campagna che volevamo rappresentare. Abbiamo mescolato quello che è il capi Wurridge con invece delle cose che in realtà hanno una storia anche loro vera, cioè sono dei pantaloni della guerra civile, abbiamo usato, abbiamo usato altri pantaloni dell'inizio del secolo. Il fondale dipinto mi dà la possibilità di raccontare delle storie anche molto surreali. Il fondale dipinto crea un'immagine di un luogo che tu ti immagini, che continui oltre il fondale. Abbiamo deciso di iniziare il lavoro di dividere in tre fasi. Che rappresentano poi le tre fasi stagionali, cioè diciamo l'attacco di stagione, cioè settembre, ottobre, la prima parte dell'autunno, per poi invece evolversi nella fase teatrale dove tu rappresenti la tua storia. Esatto, quello cavare berlinesi diciamo, in cui c'è un mago che fa apparire, sparire delle cose. E poi si arriva invece all'inverno pieno, alla montagna incantata, al sogno, eccetera, eccetera. C'è animaletti che spuntano. Questo gioco di passate presente, secondo me, in questa campagna potrà funzionare molto bene.